Ciao, sono Roberta e bentornata su Io ricomincio da me, il canale dedicato alla crescita personale e al cambiamento dove parlo anche di minimalismo. Oggi in particolare ti voglio parlare di minimalismo e Black Friday. Probabilmente se conosci abbastanza il minimalismo ti domanderai come le due cose possono andare d'accordo, visto e considerato che uno dei punti saldi del minimalismo è avere meno cose. Personalmente però io non credo che il minimalismo sia un avere in assoluto meno cose, ma avere quello che ci è davvero utile e quello che amiamo. Quando parliamo di quello che ci è davvero utile è perché in alcuni casi determinate cose magari non le amiamo, ne faremmo volentieri a meno, ma ci servono. Faccio un esempio molto banale, io vivo in un paesino e per muovermi, poter andare a lavorare e portare mia figlia a scuola o andare a fare la spesa, ho bisogno di avere la macchina perché se non avessi la macchina e dovessi far fede sui mezzi pubblici che passano, se tutto va bene, una volta ogni ora, magari anche meno, sarebbe impossibile o comunque richiederebbe per me molto più tempo, tempo che io voglio dedicare ad altro. Quindi io non amo la macchina, anzi al contrario non mi piace neanche tanto guidare, però la macchina è qualcosa che mi è indispensabile, mi è utile e quindi ce l'ho. Poi logico, non avrò sempre l'ultimo modello, in realtà è una macchina che ha 20 anni e finché funziona continuerò a utilizzarla, non spenderò per questo oggetto molti dei miei soldi, ma comunque qualcosa che mi serve, che mi è utile e che quindi è giusto che io abbia. Lo stesso discorso lo si può fare per esempio se sei una donna che lavora in una famiglia e compri delle attrezzature, degli elettrodomestici che ti aiutano a pulire o a cucinare con più efficace e minor tempo. Il tuo tempo è la cosa più preziosa secondo i minimalisti, quindi comprare degli oggetti che ti possono aiutare a recuperare tempo e a fare quelle cose che devi fare è assolutamente qualcosa che è fattibile, che è allineato per il mio punto di vista al minimalismo. Dall'altra parte invece abbiamo le cose che noi amiamo, quelle che per noi sono importanti e che magari teniamo anche se sono cose che non hanno una particolare utilità. Faccio un altro esempio molto semplice, mettiamo che ti hanno regalato qualcosa che può essere un gioiello ma anche in realtà qualcosa di molto banale tipo non so un soprammobile piuttosto che un altro oggetto che in realtà non è che ti sia davvero utile, non lo metti mai o non lo usi mai, però è qualcosa che per te ha un grande valore affettivo. Beh è giusto che tu queste cose le tenga. Il minimalismo non dice che devi avere pochissime cose, ma solo le cose che ti sono davvero utili e che tu ami. Se poi queste cose siano poche o tante quello è qualcosa che cambia per ogni persona e per questo il minimalismo è molto bello perché in realtà non è un qualcosa di standard, non è un massimo numero di cose che devi avere, è qualcosa che si adatta molto alla tua vita e alla tua ricerca della felicità. Questo quindi è il vero rapporto che ogni minimalista dovrebbe avere con gli oggetti, avere solo le cose che per lui sono importanti o davvero necessarie. Detto questo come puoi pensare al Black Friday e accostarlo al minimalismo? Beh spesso proprio perché hai poche cose e delle cose che per te sono importanti tendi a comprare delle cose di maggiore qualità perché sono delle cose che hanno un valore, sono delle cose che devono avere uno scopo, sono delle cose che conti di utilizzare per molto tempo negli anni a venire. Quindi di solito questo genere di cose sono delle cose che hanno un prezzo piuttosto alto o comunque più alto di quelle che potresti trovare se le comprassi di primo prezzo. Questo vuol dire che a volte i minimalisti nonostante abbiano poche cose in realtà spendono molto per quelle cose e allora perché non utilizzare il Black Friday come in realtà ogni altra occasione di promozione per comprare quelle cose che vuoi e che ti servono quando sono a un prezzo più basso. Perché niente toglie che nonostante tu sia disposto a spendere di più per un determinato oggetto possa però comprarlo quando quell'oggetto è a un prezzo più basso rispetto al suo solito costo. Quindi se è qualcosa che non ti serve subito, se è qualcosa che puoi aspettare, se è qualcosa che si sta rovinando e quindi sai che dovrai cambiare a breve ma non è ancora arrivato completamente al suo ciclo di vita, puoi utilizzare il Black Friday o più in generale comunque le varie promozioni che si trovano durante l'arco dell'anno per comprare quel determinato oggetto e spendere meno. Perché anche sul discorso dei soldi in realtà il minimalismo ha due approcci abbastanza diversi. Da una parte ci sono quelli che pensano che il minimalismo sia un modo per vivere in maniera frugale con poche cose e dall'altra parte ci sono quelli che in realtà sostengono che il fattore soldi non è un fattore molto importante e semplicemente si tende a spendere di meno proprio perché si tende ad avere di meno. Beh le due cose possono in qualche maniera vivere insieme, nel senso che niente toglie che se tu sia un minimalista non sei obbligato a vivere in maniera frugale, quindi puoi avere le cose che vuoi, puoi avere delle cose anche di un certo valore importanti e dall'altra parte però puoi comunque stare attento ai soldi che spendi e utilizzare le occasioni in cui questi soldi sono risparmiabili attraverso l'utilizzo delle offerte come quelle del Black Friday. Un discorso però che bisogna fare quando parliamo di offerte in generale relativo al minimalismo è proprio il bisogno di comprare. Se ti sei appena approcciato al minimalismo potrebbe essere che questa cosa sia un po' ostica perché siamo così abituati a spendere, a comprare, a pensare che la nostra felicità sia data da quello che abbiamo e da quello che possiamo comprare che per quanto abbiamo deciso di liberarci di tutto i saldi sono un po' come il canto delle sirene. Tu li vedi, senti queste offerte, vedi dei prezzi che sono particolarmente bassi e dici oddio ma quella cosa magari tutto sommato potrebbe tornare inutile piuttosto che pensi no ho fatto un po' troppo decluttering e quella cosa mi serviva quindi per fortuna che adesso è in offerta la posso comprare. È perfettamente normale perché il minimalismo è un processo, è un processo di crescita personale, è un processo di cambiamento e come tutti i processi ha dei momenti in cui si va un pochino più avanti, dei momenti in cui si torna indietro, non è un qualcosa di lineare, può capitare di inciampare in quelle che sono le vecchie abitudini consumistiche quindi in questi periodi può essere molto forte il desiderio di comprare cose e di circondarsi di cose perché il fatto anche che abbiano un prezzo davvero solitamente molto basso ti porta a pensare ma sì la posso comprare. In realtà se ti stai approcciando al minimalismo nel mondo giusto quindi se quello che vuoi è vivere meglio e non semplicemente vivere con pochi soldi è proprio uno di quei momenti in cui è giusto che tu faccia un po' di autocritiche e dici ok questa cosa mi serve davvero, questa cosa mi davvero mi darà un valore raggiunto, mi sarà utile, mi piacerà, mi farà sentire meglio nel senso che sul lungo periodo mi farà sentire meglio perché spesso si tende a comprare per riempire dei vuoti perché magari le cose sono andate male perché sei in un periodo della tua vita in cui sei particolarmente diciamo così stressato o comunque in cui le cose non vanno bene e comprare è sempre stato qualcosa che ti ha dato un minimo di soddisfazione. Il problema è quella di soddisfazione ma la soddisfazione è molto breve, dura probabilmente il tempo in cui compri qualcosa e forse un paio di giorni dopo ma poi svanisce. È un po' come i bambini nel periodo di Natale no? Che vogliono il regalo poi quando arriva ci giocano due giorni e se lo sono scordato. È normale, è qualcosa che capita ma se una persona adulta hai deciso di abbracciarti al minimalismo e quindi puoi fare un passo in più e fermarti e dire ok davvero mi serve? Se non mi serve non lo compro e non importa quale sarà il prezzo o quale la motivazione. Cerchiamo di lavorare un po' di più su noi stessi, magari quello che ci serve è un momento per noi e allora in quel caso può essere un'ottima occasione sfruttare per esempio anche le offerte del Black Friday sui servizi perché anche molti servizi sono messi in offerta. Un'altra cosa che si può utilizzare nel Black Friday nonostante tu sia un minimalista per esempio è utilizzare gli sconti che vengono messi per fare qualche corso, magari c'è qualcosa che non ti piace nella tua vita e magari vorresti cambiarla ma pensi che hai bisogno della formazione o comunque di conoscere qualcosa in più, di imparare. Perché non utilizzare le offerte per farti un bel corso o per lanciare un progetto che tu puoi avere? A volte questo è tutto quello che ci serve, la consapevolezza del fatto che non è l'oggetto comprato a farci stare bene ma qualcosa dentro di noi che non ci piace. Quindi il Black Friday non è un un mostro, non è un nemico, non è satana, è un'occasione come ce ne sono tante di comprare determinate cose a prezzi scontati. Se quelle cose ti servono e tu pensi che sia qualcosa che ha senso per la tua vita utilizzalo, utilizzalo come puoi utilizzare qualunque altra promozione o offerta che può capitare durante l'arco dell'anno o della tua vita. Se così non è, semplicemente impara a dire no, non mi serve e non importa quanto può essere straordinario o imperdibile quel prezzo, è qualcosa che per me non va bene. Il Black Friday è un'occasione, un'occasione in più per dimostrare a stare a te stessa che sei una minimalista vera, che quello che vuoi nella tua vita è avere le cose che per te sono davvero importanti, quelle che ti rendono felici, quelle che ti fanno stare meglio e poco importa quanto queste cose costano o in quale periodo dell'anno te lo stanno dando. Se sono compatibili con il Black Friday, bene, altrimenti aspetta alla prossima occasione quando ci sarà qualcosa che per te sarà davvero valido, anche se guarda a dire comprarlo a prezzo pieno. Perché quello che dobbiamo ricordarci nel Black Friday, come in realtà in qualunque altro momento della nostra vita, è che quello che ci rende felice spesso sono le esperienze o le cose che possiamo fare molto più degli oggetti. Teniamo gli oggetti che ci servono, teniamo gli oggetti che ci rendono felici e per il resto lasciamo andare. Bene, ora quindi hai capito come Black Friday e minimalismo in realtà possano anche sposarsi. Se il video ti è piaciuto ti prego di mettere un like ed eventualmente di inoltrarlo a chi pensi possa trovarlo utile. Se non l'hai ancora fatto ti prego di iscriverti al canale dove troverai altri video sul minimalismo ma anche sulla crescita personale, la gestione del denaro e del tempo. Ciao e alla prossima!